Andiamo gli altri. Pacienza valida. Subito Borsi a condurre, seguito dalla stretta della morte di Cancù, Borsi Reynoli, via gli altri voli, le decisionette più staccati nell'ostra, la posizione tra Borsi e Ricci. Concluda questa... La quinta, seconda batteria, signor Maschi, a condurre la stretta della paternese Merlini Michele, seguito da Terrico Gabriele del San Mauro e in terza posizione, volto a lescio della polisportiera Pelusco. E' un attacco che non viene ridussato, qui in prima posizione, e va a vincere questa batteria. Si concludono qualificazioni delle gale... Grazie!